Torniamo a fare un confronto QLED vs OLED, stavolta però con dei pannelli che sono al top della categoria perché abbiamo a disposizione un OLED C1 della LG, l'ultimo modello appunto del 2021 e dall'altra parte un Samsung 8K QLED, quindi con risoluzione superiore, qui siamo al 4K e vediamo quali sono pro e contro ciascuno di questi due modelli perché all'effettivo sappiamo già dall'altro video che vi lascio nelle schede che l'OLED si posiziona meglio ma a fronte di una spesa nettamente superiore qui abbiamo un serie 7 di Samsung che dispone di retroilluminazione dedicata a un televisore full LED con local dimming e questo permette di essere molto più precisi per quanto riguarda la retroilluminazione e quindi gestire meglio anche le parti nere cosa che per l'OLED chiaramente è facilissimo essendo un pannello che emette luce propria e che ha i neri assoluti come sempre vi invito a vedere l'altro video relativo al confronto QLED vs OLED per capire bene le differenze le citiamo anche qui su come sono strutturati i due pannelli ma andiamo a vedere le differenze tra questi due modelli dopo la sigla entrambi sono da 55 pollici anche se per una questione di prospettiva potrebbe sembrare più grande l'OLED DLG ma all'effettivo hanno la stessa dimensione stiamo vedendo poi un video in 8K direttamente su entrambe le televisioni e all'effettivo spero di renderla meglio in camera possiamo vedere come ci siano delle differenze in ottica di colorazione questo varia in base ai settaggi del pannello direttamente a occhio nudo quindi si riesce a vedere la differenza però è già bene sottolineare che il QLED nonostante sia un serie 7 quindi non un serie 9 è un televisore di fascia altissima costa molto di meno rispetto all'OLED DLG e si difende bene nell'ottica della riproduzione dei colori andiamo a vedere poi tutta una serie di immagini con il buio attorno per vedere al meglio le caratteristiche andando poi a ragionare anche su quello che differenzia questi due televisori l'OLED come detto parte da una questione di budget quindi se abbiamo una forbice di spesa piuttosto elevata i link come sempre sono in descrizione possiamo andare a puntare sull'OLED quindi sul top della categoria parliamo subito di una delle remore che c'è nell'ottica OLED ovvero quella del degrado dopo diversi anni di utilizzo negli anni questo tipo di pannello ha avuto delle evoluzioni ad oggi non l'ho trovato particolari lamentere anche dopo un utilizzo prolungato comunque lo vedremo in primis direttamente nel tempo tramite Instagram perché vi aggiornerò man mano sull'utilizzo dell'OLED C1 di cui arriverà anche la recensione se disponibile chiaramente è presente nelle schede già disponibile la recensione del Samsung Q700T 8K che vi invito a vedere molto bisogna dirlo anche in relazione alle caratteristiche del singolo pannello perché l'OLED ha comunque dei colori più interessanti ma anche il QLED serie 7 quindi se saliamo di serie tra l'altro abbiamo dei risultati migliori si difende davvero molto bene per esempio il pannello QLED è più luminoso possiamo settare al massimo la luminosità del pannello OLED però non raggiungeremo lo stesso livello del QLED essendo poi ovviamente un televisore LED con tecnologia Quantum Dot questo ovviamente permette a ogni singolo pannello di andare meglio in determinate situazioni e peggio in altre rispetto all'altro quindi in entrambi i casi rappresenta comunque una scelta oculata perché andiamo a prendere a differenza dell'altro confronto fatto dei televisori di fascia alta di mercato questo significa avere allo stesso tempo anche una esperienza audio estremamente buona quindi un impianto audio più potente in grado di regolarsi alcune volte automaticamente in base alla stanza in cui si trova grazie a sensori interni, microfoni e tecnologia di intelligenza artificiale che troviamo comunque da entrambe le parti questo ovviamente aggiunge tanto all'esperienza di visione perché l'audio è fondamentale e ritornando al pannello quindi anche la luminosità chiaramente ha la sua importanza la sua importanza anche fondamentale all'effettivo quello che andremo a vedere come differenza un po' più consistente a seconda della serie per esempio della serie 7 e di quello Samsung se saliamo di serie avremo una retroilluminazione più periferica perché sono pannelli full LED quindi a fronte del nero assoluto del pannello OLED man mano che saliamo di serie sul Samsung sul 7 già passiamo a tecnologia full LED e quindi ci difenderemo benissimo avremo più precisione tra il bianco in questo caso l'illuminazione e il nero ragioniamo sulla risoluzione differenza sostanziale tra questi due televisori e di fatto al di là del pannello la differenza di risoluzione si nota il video in riproduzione sull'8K è in 8K nativo mentre qui abbiamo riproduzione dello stesso video che però in 4K perché ovviamente non possiamo riprodurre un contenuto 8K su un televisore 4K quantomeno non vedremo differenze particolari i contenuti in 8K sono pochi oggi guardando con attenzione si nota una profondità maggiore un'immagine più viva e quindi l'incremento di risoluzione ha il suo perché allo stesso modo bisogna anche dire che molti contenuti oggi sono in 4K però il televisore fa l'upscaling quindi passa i contenuti 4K in 8K e si ha un leggero miglioramento per quanto riguarda l'immagine e ovviamente anche la profondità data al maggior numero di pixel che abbiamo a disposizione questo si traduce in una differenza non abissale che però di fatto per chi cerca risoluzione maggiore può avere senso poi nel tempo i contenuti 8K chiaramente aumenteranno a fronte di questo dobbiamo dire che c'è chi può preferire un pannello più particolare con colori più vividi e chi magari ha una luminosità maggiore non c'è un vincitore assoluto la preferenza è soggettiva certamente come nel precedente confronto devo sottolineare che l'OLED a fronte della risoluzione attuale che prevediamo di tenerci per molti anni ha un suo perché ci può dare sicuramente più profondità in termini di immagine ma l'8K il QLED Samsung da serie 7 si difende molto bene come detto soprattutto se andiamo a salire di serie e arriviamo sulla serie 8 o la serie 9 sono le top di gamma a fronte di questo dobbiamo anche andare a citare la parte gaming perché dobbiamo anche sottolineare questo un LG C1 erede della serie CX di LG che è praticamente votata proprio all'utilizzo gaming un pannello che ha a disposizione tecnologie e accessorie come il G-Sync, la AMD FreeSync e quello che riguarda la possibilità di avere prese HDMI 2.1 che arrivano fino a 120Hz però come ho detto più volte all'interno del video della scelta del televisore per giocare con le console di nuova generazione quindi Xbox Series X e PlayStation 5 noi possiamo anche avere a disposizione il televisore che va a 120Hz ma quando attacchiamo la console di fatto andando a selezionare 120 fotogrammi al secondo andremo a diminuire la qualità dell'immagine cosa che io non preferisco assolutamente quindi è molto meglio comunque avere un televisore che abbia una buona qualità di immagine rispetto alla presa HDMI 2.1 che ogni tanto mi viene chiesta nei commenti e i famosi 120Hz perché aumentiamo il frame rate ma perdiamo la qualità se vogliamo godere al massimo della qualità visiva dell'HDR sulle console di nuova generazione beh non ci conviene andare a aumentare il frame rate perché perderemo la qualità allo stesso modo il G-Sync va bene anche nell'ottica del PC gaming quindi sulle schede grafiche Nvidia se vogliamo andare a giocare con un televisore di ampia dimensione possiamo collegarlo ad un computer per estrarre praticamente il meglio possibile in ottica gaming e l'OLED in questo caso essendo l'LGC1 al di là del pannello si presta molto bene all'effettivo io sulla parte gaming non mi baserei neanche troppo su questo ma sempre sulla qualità dei pannelli vado a sottolineare anche un'altra cosa in questo video come anche nel precedente li vediamo affiancati li vediamo con determinati settaggi che possiamo andare a personalizzare chiaramente che vanno ad esaltare o meno a seconda dei preset a seconda della nostra personalizzazione sui parametri del pannello andranno ad esaltare determinate caratteristiche come può essere appunto la parte scura sull'OLED o come detto prima la luminosità sul QLED però prendendo singolarmente il televisore QLED come fatto nella recensione appunto abbiamo a disposizione un pannello di ottima qualità a fronte di un costo più basso e quindi se non abbiamo un budget particolarmente elevato paghiamo praticamente più del 30% in meno nel caso del QLED 6,7, 8K se scendiamo al 4K pagheremo ancora meno chiaramente e abbiamo a disposizione un ottimo televisore un televisore che davvero ci stacca rispetto ai paneli tradizionali e a fronte di una spesa nemmeno troppo elevata dunque nella scelta io vado a preferire l'OLED l'ho spiegato comunque anche nel confronto precedente si conferma dopo questo confronto però stavolta abbiamo contro un televisore 8K QLED serie 7 quindi qualcosa con un pannello più prestante effettivamente con tecnologia di retroilluminazione dedicata con il local dimming e la differenza si nota rispetto a serie 6 che abbiamo utilizzato nel confronto precedente e sul test Dolby Atmos vi ho fatto vedere anche quello del Dolby Vision per avere dei riferimenti diretti sulle caratteristiche dei due televisori e andiamo a tirare le somme dunque in quest'altro confronto abbiamo visto la risoluzione 8K e il QLED serie 7 rispetto all'OLED quanto detto in precedenza rimane costante all'effettivo l'OLED rimane comunque un tipo di pannello molto importante e forse il primo in assoluto disponibile a fronte di una spesa più importante la mia preferenza continua ad andare verso l'OLED però effettivamente abbiamo dall'altra parte un pannello che si difende benissimo che ha delle caratteristiche esclusive come appunto la risoluzione 8K che ci può dare del margine in più come qualità di visione anche quando vediamo contenuti su Netflix in streaming su richiesta anche in 4K grazie all'upscaling all'effettivo ho cercato di rendere al meglio le differenze dipende anche dai settaggi che andiamo a dare al singolo televisore che ci dà un particolare risultato sicuramente è innegabile dire che se vado sui neri dell'OLED qui sono neri assoluti e quindi difficilmente anche un top di gamma serie 9 QLED può andare ad eguagliarli tuttavia in alcune situazioni si comporta addirittura meglio quindi come detto la scelta in base alle nostre esigenze in base al nostro budget se andiamo più su un'ottica cinematografica può andare verso sull'OLED ma se dobbiamo giocare se abbiamo bisogno di luminosità in più cosa che ci può dare effettivamente una mano e rendere meglio tutte le parti relative alla parte gaming quindi qualsiasi tipo di titolo da quello più classico ad azione a quello lì più tranquillo al gioco di calcio eccetera la luminosità del QLED può darci sicuramente una marcia in più e quindi la scelta chiaramente rigate anche sulle vostre esigenze e fatemi sapere che cosa ne pensate nella scelta della tv andiamo a vedere anche quali sono le certificazioni associate al tipo di pannello che può essere il Dolby Vision il Dolby Atmos tutte le tecnologie aggiuntive che vengono in soccorso per avere una scelta più consapevole anche come standard HDR alcuni filmativisti erano appunto in HDR per esaltare al meglio le capacità del pannello in termini di colorazione avere colori più profondi e spingere al massimo la qualità di entrambi i televisori sono entrambi i pannelli che consiglio come detto in fase di recensione entrambe le recensioni sono appena disponibili sono nelle schede quella del TV8K è già disponibile e se preso singolarmente può essere davvero un ottimo acquisto sottolineo inoltre che possiamo prendere il pannello 4K al posto di questo 8K con le stesse caratteristiche anzi qualcosa in meno a un prezzo più basso tuttavia nella recensione ho consigliato di prendere magari il pannello superiore e spendo qualcosa in più perché ha delle tecnologie accessorie di ottimo livello in più rispetto al corrispondente 4K fatemi sapere voi che cosa ne pensate di quest'altro confronto che abbiamo visto appunto in termini anche di risoluzione rispetto al pannello QLED e OLED aggiornato poi tra l'altro al 2021 io vi invito come sempre a lasciare un like a questo video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti per qualsiasi domanda qui sotto nei commenti o direttamente su Instagram di cui c'è il link in descrizione i link a LTV sono appunto qui sotto nei commenti e io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video